In tunesima edizione della settimana europea delle regioni e delle città si è parlato di tanti argomenti qui a Bruxelles aventi ad oggetto due parole d'ordine, sostenibilità e transizione. Non poteva mancare ovviamente per i temi sanitari anche quelli affrontati di Uriga, che è il network europeo delle autorità sanitarie regionali d'Europa, la sanità transfrontaliera per fare in modo che comunità che risiedono a cavallo di due stati membri possono effettivamente avere gli stessi diritti di cittadinanza sanitaria. Poi il cancro e le cure in oncologia con la necessità di potenziare e specializzare sempre di più i centri onnologici. Poi il tema della digitale, in particolar modo con il tema delle competenze digitali, delle competenze verbi necessarie per accompagnare la transizione delle trasformazioni già in corso e saremmo anche in ritardo, in tema di green sostenibilità e trasformazione digitale.